Ragazzi mi stanno chiamando dall'Inghilterra Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Oggi parleremo delle 5 cose Ti odio che mi sono diventano un nazista Numero 1 Quando le persone parlano su altre persone Porca miseria sto parlando Non mi interrompere per fare dei discorsi di m***a Li odio quelle persone che parlano su altre persone Cioè tipo tu stai lì Eh no ma io l'altro giorno sono andato da Mario E poi arriva questa persona che fa Eh aspetta un attimo perché non aspetta un attimo è così importante Non dai aspetta No no non incominciare a parlare Cazzo Eh mi Ti sparo Numero 2 Quando Allora Non so se è mai successo vi succederà Ma Quando avete il telefono in mano Quando avete il telefono in mano E state capito Aspettando che qualcuno vi scriva Non vi scrive nessuno Vi giuro ragazzi che non vi scrive nessuno A me è capitato Quando invece Mi succede Che Blocco Il telefono Mi inizia a scrivere il mondo intero Tutti i salti di questo mondo E ti scrive pure trompoli Dall'America Per dirti Eh bello come stai Cioè E tu lì che stai Ragazzi Mi stanno chiamando Dall'Inghilterra Pronto Però mi faccia un saluto in diretta Grazie Ciao Comunque Continuiamo Non so se vi è mai successo Non so se vi capiterà Ma ragazzi Vi giuro E' così Fidatevi E' così Numero 3 Ragazzi Mi fa veramente Incazzare Ed è una cosa che odio Quando Non chiudono la porta Non so se Non so se vi è mai successo Ma E' così Quando tipo Lasciano la porta aperta Così Lasciano così La porta aperta Non la chiudono No God Please No 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 E mi fa Incazzare Numero 4 Quando sto parlando E mi fanno Dietro 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 Sì un attimo Dietro 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 Ti scasseranno Talmente Tanto Fino a quando Tu non li devi Rompere Una sedia Sulla faccia Non In fa Sulla Proprio Mi fa Incazzare Io ho capito Un attimo Sto parlando E allora Sono Abriaco Sì Saluta Questo video Ignorante In diretta Ciao Video Ignorante In diretta Beh Ciao Fammi finire Ciao 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 Numero 5 Odio Quando Devono Cambiare Ogni 5 minuti Programmi Del sabato Sera Tipo Che ti chiamano E dicono Pietro Stasera Andiamo a farci Una pizza 5 minuti Dopo Passano 5 minuti Ti aspetti Che il piano Della serata Deve andare Che Devi mangiare La pizza Invece No Invece No Ti chiamano 5 minuti Dopo E ti dicono Pietro E cambiato Il programma Stasera Si va A giocare Alle stack C'è altri 5 minuti Dopo Ti chiamano Dici Pietro Io Non posso Più Uscire E In quel momento No Non ciò E va bene Ragazzi Se vi è piaciuto Questo video Mi raccomando Spoliciate Commentate Condividete E noi ci vediamo Al prossimo video Se non vi è piaciuto Il video Riguardatelo Di nuovo Perché sarà Molto più bello Rivederlo Mi raccomando Fate Le cose Più Burocratiche Di YouTube E noi ci vediamo Al prossimo video Qui Da Pietro Vlog È tutto Ciao Prrr Ciao